Ciao ragazze e bentornate sul mondo cosmetic Allora, un piccolissimo video per spiegarvi un attimo cosa è accaduto in tutto questo tempo e per programmare un po' insieme il canale Allora, molte di voi che mi seguivano sanno che mi sono dovuta fermare per un pochino nonostante io pensassi di poter riprendere finalmente il canale ma per una serie di motivi che non sto a raccontarvi perché non mi voglio annoiare finalmente adesso posso gestire meglio il canale quindi avevo pensato di suddividere i miei video in due tipologie differenti sostanzialmente la prima quella dedicata appunto sempre alle recensioni dei prodotti cosmetici dei brand un po' più famosi e un'altra invece dedicata alla scoperta dei prodotti della Ivoroshi perché sapete che io sono consigliera di bellezza e capogruppo della Ivoroshi per cui fa parte del mio mondo e comunque fa parte di cosmetici e mi fa piacere farvi conoscere questo mondo ci tengo subito a dire che non farò dei video recensioni magari può capitare però tendenzialmente non saranno video recensioni quindi come i prodotti insomma di cui parlavo prima perché non voglio che si possa pensare che io essendo una capogruppo della Ivoroshi possa essere tra virgolette di parte per cui vi parlerò, mi limiterò a parlarvi del prodotto per farvelo scoprire i principi attivi che ha, da chi può essere utilizzato insomma delle informazioni generali sul prodotto per farvelo conoscere meglio poi ovvio che ogni tanto magari ci può scappare qualche mia opinione personale però voglio dire tendenzialmente semplicemente farvi conoscere i prodotti quindi farò il martedì dei video recensioni sui prodotti di cui sappiamo Kiko, Wicon e tutte le altre aziende e il venerdì invece pubblicherò dei video appunto dedicati alla Ivoroshi ovviamente ci può essere anche qualche altro video tipo appunto quello che sto facendo adesso di cui parlerò anche di dieta eccetera eccetera ma tendenzialmente così dovrebbe essere strutturato il canale appunto parliamo un attimo della dieta allora quando ci siamo lasciate io ero a dieta e vabbè quella continua perché anche lì mi sono dovuta fermare per una mancanza proprio di tempo nel senso che non avevo proprio modo di cucinarmi le cose che avrei dovuto mangiare per cui è vero che non ho mangiato tantissimo o comunque in maniera tanto sbagliata però comunque non ho seguito il regime alimentare che mi ha suggerito la mia nutrizionista già tengo a dire che comunque per me quando parliamo di dieta non parliamo di restrizioni alimentari ma di abitudini alimentari quindi in realtà è un percorso che poi non avrà mai fine perché comunque è uno stile di vita però è importante sapere appunto cosa mangiare come mangiarlo e quando mangiarlo molto importante però è quindi diciamo che sotto il punto di vista alimentare ho ripreso il mio percorso alimentare sono sempre seguita dalla mia adorata nutrizionista che ha tantissima pazienza con me ma comunque ho integrato anche dietro consiglio della mia dottoressa ho iniziato ad integrare un po' di attività sportiva voi sapete che io sono una ex sportiva che per una serie di problemi e di motivi ho dovuto lasciare a malincuore ma che comunque fa sempre parte della mia personalità perché è una delle cose che amo di più lo sport in generale per cui seguivo con molto piacere i consigli di Annalisa Sovestarus per quanto riguarda appunto un po' tutto il suo percorso che comunque mi è piaciuto tanto ma anche i suoi consigli sul fitness at home quindi come organizzare un po' l'attività a casa l'attività fisica a casa ma anche i sogni della Ele è stata per me veramente un motivo uno sprono insomma ad andare avanti su tutto questo punto di vista perché è una donna che io reputo voi la conoscete benissimo i sogni della Ele ha un canale ormai famosissimo su Youtube e Leonora appunto è una ragazza veramente fantastica che io stimo tantissimo e che appunto ha fatto un percorso di vita molto molto difficile e adesso sta finalmente prendendo tutte le soddisfazioni che merita e anche lei appunto raccontava di questo suo allenamento a casa e come ha iniziato ad approcciarsi allo sport tutto questo per dirvi che anche io ho iniziato questo mio percorso di allenamento a casa e l'ho fatto grazie a un gruppo su Facebook che mi è stato consigliato da una mia amica che io non conoscevo ma che ora amo follemente e che è appoggiato anche al sito ufficiale appunto di questo gruppo di Facebook che si chiama Workout Italia cosa è Workout Italia? non è altro che un gruppo di persone che hanno appunto aperto e abbracciato questo argomento in maniera però molto molto equilibrata e molto giusta secondo il mio parere cosa ha fatto? ha raccolto diversi video e diversi tipi di allenamento andando però in maniera più approfondita a noi in maniera molto superficiale per chi appunto vuole iniziare a fare attività a casa per chi non può andare in palestra per chi non può economicamente per chi non ha tempo quindi a casa lo si può fare tranquillamente vi assicuro che ci sono persone che hanno avuto dei risultati fantastici li ho visti sia sulle fotografie appunto che mettono sul gruppo ma anche appunto facendo un giro online si vede poi anche appunto diverse testimonianze che ho visto in giro in realtà è un gruppo di supporto per chi vuole iniziare questo percorso ma non sa come fare magari è scoraggiato magari non sa proprio come avvicinarsi a questo ambiente per cui insomma è un gruppo che vi consiglia vi supporta moltissimo sono poi tra l'altro simpaticissimi sempre tutti molto disponibili e come vi dicevo di supporto c'è il gruppo c'è il sito internet ufficiale che è appunto Workout Italia di cui poi trovate comunque link anche su Facebook che vi inizia a far entrare nel mondo dello sport appunto in punta di piedi se non siete esperti ma altrimenti già vi dà la possibilità di allenamenti belli strong per chi già è in forma quindi vi volevo dire questa cosa perché io lo trovo veramente utilissimo e io lo seguo quotidianamente e veramente sono contenta di fare parte di questo gruppo su Facebook e mi andava di condividerlo con voi perché quando ci sono ci sono delle persone che magari hanno voglia di riprendere in mano la propria vita ma magari hanno un po' di difficoltà il mio consiglio voi lo sapete l'ho detto e ridetto e lo dirò sempre per quanto riguarda l'alimentazione seguite da una nutrizionista da un dietologo insomma da uno specialista e attività se è possibile non potete farla in casa o non potete comunque almeno camminate che vi aiuta tantissimo e poi piano piano se riuscite almeno ad entrare in questo mondo di Workout Italia e iniziare a fare questo piccolo sforzo di fare un po' di attività parliamo di 15 minuti 30 minuti a casa all'inizio poi ovviamente in base alle vostre esigenze veramente vi aiuta tantissimo e vi fa sentire anche molto meglio sia emotivamente ma anche proprio fisicamente quindi niente mi andava di condividere con voi questa nuova cosa e niente vi aspetto nel prossimo video se avete delle richieste particolari lasciate un commentino insomma ci vediamo presto io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto vi mando un grosso bacio ciao ciao Sous-titrage ST' 501